Buongiorno, oggi è il 21 settembre, ovviamente San Matteo, grazie degli auguri a tutti e auguri a tutti Matteo in ascolto. Il Vangelo di oggi è tratto dal Vangelo di Matteo, appunto, capitolo 9. Gesù incontra questo pubblicano, lo chiama, questo lo segue, gli organizza un pranzo con altri peccatori e Gesù pronuncia quelle frasi fondamentali, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, misericordia, io voglio e non sacrificio. Quindi ci sono tante cose notabili in questo Vangelo. La prima è davvero il comportamento di Gesù paradossale, non è venuto per i giusti ma per i peccatori ed è la misericordia che lui vuole, non i sacrifici, non le cose strane o i riti che in qualche modo non incidono sulla nostra vita. La seconda cosa è la risposta istantanea di Matteo, chissà che cosa ha intuito in questa persona, certamente una persona che non voleva giudicare ma che voleva appunto portare ad alte vette. La terza è questo pasto con i peccatori, la conversione è sempre contenente una dimensione pubblica per gli altri e quindi dobbiamo in qualche modo ricordarci anche di questo e soprattutto è una conversione festosa. Si celebra a tavola con festa, con gioia, con cibo, con vino perché il Signore appunto vuole la nostra gioia e non certamente la nostra, diciamo così, annullamento dell'umano ma vuole appunto che noi arriviamo alla nostra pienezza. Buona giornata a tutti, fatti bravi e ancora grazie per gli auguri da tutti quelli che sono arrivati. Ciao!